Ciao Eugenio, di dove sei? Dove sei? Di dove sei? Ok, tu dici, eh, sono russo, ho fatto Bravissimo, davvero, complesso Ok, e tu dici, ah, è buona la pizza Io? Sì No, tu devi dire, è buona la pizza Ok, non so come dire, sì, è buona Eugenio, secondo me tu sei un po' fessacchiotto Sei un po' fessacchiotto Esatto Tu dici, no, io sono furbo Bravissimo E ora tu dici, ora vai via Eh Tu dici, no, voglio stare con te Dici, dici, dici Ok, ora abbracciatevi da buoni amici E andate Bravissimo